Riflettere sull'importanza del passato, delle radici e dei luoghi da prendere come spunto per realizzare un calendario. E' l'iniziativa messa in atto a Villalago dove i bambini della scuola elementare hanno lavorato per molte settimane nella biblioteca comunale per realizzare il calendario 2016, fatto di disegni e storie che, riproducendo avvenimenti, luoghi e feste del posto, accompagnano i vari mesi. Oltre all'aspetto della ricerca storica è stata sottolineata l'alta valenza sociale dell'iniziativa. Oggi i bambini li vediamo molto attaccati al cellulare, al computer, Facebook, quindi i vari social network, quindi si inizia a parlare sempre meno, si comunica sempre meno. Quindi lo scopo è quello di far aumentare tutte le forme di socializzazione, far creare, far inventare i bambini, quindi dargli quelle opportunità di creatività che oggi tendono a svanire. I docenti insieme ai ragazzi si sono recati in visita negli scorci più significativi del piccolo borgo della Valle del Sagittario per raccogliere storie e testimonianze anche dei nonni che hanno spiegato a coloro che dovranno costituire le nuove generazioni come si viveva una volta. Mi è piaciuto tantissimo. Perché abbiamo disegnato. Mi è piaciuta tantissimo perché a uno non piace disegnare benissimo e allora mi è venuta la voglia di imparare a disegnare. Gli hanno raccontato come era una volta a Villalago. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto condividere l'emozione che i bambini, i piccoli di noi hanno. A me mi è piaciuto tanto perché abbiamo fatto tanti disegni e i calendari. E ci siamo divertiti. La lonevole iniziativa è stata presentata nell'Aula Consigliare del Comune alla presenza di insegnanti e genitori degli alunni e del sindaco Fernando Gatta che si è dichiarato orgoglioso del lavoro intrapreso perché testimonia l'attaccamento alle proprie radici e l'amore verso la storia del paese. I fondi che verranno raccolti con il calendario 2016 serviranno a finanziare le attività dei bambini. Abbiamo la necessità di incrementare delle piccole risorse che noi abbiamo a disposizione. Queste piccole somme andranno destinate per attività per i ragazzi. Abbiamo un campetto di gioco dove si ritrovano durante il periodo estivo. Dobbiamo migliorare qualche piccola struttura anche con dotare di un computer la biblioteca comunale. Quindi tutto quello che verrà ricavato compatibilmente anche con le nostre possibilità del Comune serviranno per finanziare delle iniziative destinate ai ragazzi.